allora carissimi amici e amiche bentornati nuova catechesi sull'antico testamento che spero adesso con l'aiuto del signore di poter intensificare un po dato che abbiamo per grazia di dio terminato una piccola fatica di quest'anno con il ciclo di catechesi sui novissimi quindi speriamo che se il signore mi dona un pochino di tempo possiamo portarci un pochino avanti anche con queste catechesi nonché con l'altro ciclo di catechesi in corso che appunto il catechismo di san pio decimo ci siamo lasciati la scorsa puntata è stata circa un po più di un mese fa e abbiamo visto la fine drammatica di saul e l'ascesa di davide ma anche il primo grande momento critico della vita di davide il peccato commesso con bezabea e quindi la tutela e l'omicidio del povero uria littita per coprire il danno e il guaio fatto avendo messo incinta bezabea abbiamo anche visto le conseguenze questo terribile duplice peccato di davide profetizzate a davide dal profeta nata attraverso la parboletta del ricco che uccide la pecorella del povero e quando davide va su tutte le furie dice chi ha fatto questo merita la morte il caro nata gli dice davvero bene ti do una brutta notizia perché quest'uomo che merita la morte sei tu profezie dice il signore e castighi davide se riprende scrive il salmo 50 famoso salmo 50 pietà di meno dio secondo roto misericordia miserere mei deus secondo magna misericordia tua e comincia però a fare digiuni a tutto spiano perché tra castighi c'era anche la morte del figlio del peccato perché il figlio contribuito in quel modo natan da parte le azioni dice che il figlio deve morire davide comincia un giuno estenuante dopodiché gli vanno a comunicare che questo figlio è morto e ci siamo fermati qui riprendiamo dalla nascita di salmone vado subito dopo la nascita di salmone illustro il percorso che speriamo se riusciamo a compiere questa sera dopo la nascita di salmone devo vedere il compiersi di tutte quante le profezie di natan gli aveva detto tu hai ucciso uno di spada la spada non si allontanerà mai dalla tua casa e vedremo la rivolta di aslonne figlio di davide mi si rivolta contro e maledizione di simei davide deve scappare da gerusalemme salendo a piedi scalzi sull'erta degli ulivi e questo figlio simei questo membro della tribù di beniamino quindi della del team di saul viene dice un sacco e una sporta e vedremo come davide si umilia poi sarà la morte di assalonne un episodio analogo alla morte di saul perché vedremo poi quando vanno a comunicare a davide la morte di assalonne una reazione analoga siamo anticipati a quella che avvenne durante la morte quando gli annunziano la morte di saul quindi anziché essere contento vedremo quello che succede poi c'è un altro guaio grosso quanto una casa fatto da davide il censimento è un altro castigo terrificante che si becca davide anzi qui nostro signore veramente come vedremo gli dà la possibilità di scegliere ha fatto questo bravo ti dà la possibilità di scegliere altre cose rifletti bene e vedremo e dopo di che davide legge saul come successore e dopo di che la morte di davide vedremo anche questa serata sarà molto edificante perché allora la storia guardate la grandezza di davide è questa è uno che è un grande cuore un grande uomo quindi un grande cuore un grande innamorato del signore ma anche purtroppo soggetto al peccato non non ho il cuore di chiamarlo peccatore insomma perché comunque un grande però ha combinato dei guai ma la sua salvezza è stato che si è sempre preso le responsabilità dei guai combinati ed ha sempre accettato umilmente alla faccia di quelli che dicono che dio non castiga perché ci sono a quanto pare in giro tutti quanti i castigli combinati da dio per i peccati commessi in spirito di sincera penitenza e di espiazione il testo come vedremo di una chiarezza a riguardo sconcertante allora cominciamo adesso ad andare sulla pagina biblica e così cominciamo a vedere a leggere un po' la nascita di Salomone siamo il contesto è appena morto il primo figlio di Bezzabea sapevano come digliora Davide perché dice chi lo sa che cosa farà se prima digiunava invece Davide ha appena saputo che la morte del figlio si alza si lava si unge di olio si fa portare da mangiare quindi dico ma che fai è morto tuo figlio e adesso che devo fare fino a prima che morisse ho fatto digiuni e penitenze perché speravo che il signore avesse pietà adesso è morto che faccio non ho il potere di farlo risorgere io andrò da lui quando morirò ma lui non tornerà da me e quindi così tuttavia ecco vediamo qui il testo poi Davide con Bezzabea sua moglie andando da lei giacendo con lei ovviamente questa era più una giacenza perdonatemi il termine legittima perché comunque sia anche se in malo modo lui era morto e quindi Bezzabea è stata accolta tra le mogli di Davide che a quel tempo erano più di una non ci meravigli questo fatto ecco perché come disse Gesù ai farisei quando gli andarono a porre la questione del divorzio per la durezza del loro cuore il signore gli ha concesso questa norma ecco quindi Gesù Dio non vuole la poligamia ecco ma era tollerata come risulta chiaramente dalla scrittura come un tempo diciamo così di tolleranza in vista del ripristino di ciò che lui aveva stabilito da sempre il matrimonio monogamico post-lapsario tra l'altro ecco perché il matrimonio fu istituito prima della caduta ma il matrimonio è istituito dal diritto in diritto naturale da Dio noi non lo conosciamo come era o meglio potremmo immaginare qualche cosa di non molto dissimile da quello che fu il matrimonio tra Giuseppe e Maria adesso non voglio certamente mettere troppa carne al fuoco per approfondire queste suggestioni per chi le sente per la prima volta l'anno scorso io ho fatto un ciclo di catechesi il peccato originale è l'origine da ogni male dove c'è un approfondimento di questi temi sulla base di quanto anticamente i padri della chiesa cercarono di elaborare sulla base del racconto genesiaco della caduta e soprattutto su alcuni dati conseguenti interessante che quindi Davide consola a sua moglie andando da Reggio andando con lei così partirò partorì un figlio che li chiamò Salone e il Signore lo amò è chiaro che Salomone vuol dire Shalom in ebraico vuol dire pace quindi vuol dire portatore di pace pieno di pace attenzione il Signore lo amò a e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Yedidia per ordine del Signore questo è particolare che in molti si ricordano Yedidia in ebraico Dod se uno vede il Cantico dei Cantici il mio diletto il mio diletto Dodì 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 il mio diletto Yedidia significa letteralmente colui amato dal Signore proprio l'amatissimo dal Signore il prediletto del Signore il diletto del Signore anche la storia di Salomone purtroppo un po' più di quella di Davide sarà triste perché purtroppo Salomone perché era al termine della propria esistenza a causa delle donne pagane e le donne idolatre e drammatiche alla fine della vicenda terrena di Salomone più che drammatico sarebbe tragica ahimè comunque adesso occupiamoci ancora di Davide dopo l'episodio nasce quindi Salomone e il ciclo di Davide però continua continua ahimè con la rivolta di Assalonne che dobbiamo andare a vedere al quindicesimo capitolo del libro di del secondo libro di Samuele allora Assalonne comincia a congiurare e comincia di fatto a costruirsi diciamo così un regno parallelo vedete quando uno gli si accostava versetto 5 per postarsi davanti a lui gli porgeva la mano l'abbracciava e lo baciava Assalonne faceva così con tutti gli israeliti che venivano da re per il giudizio e in questo modo Assalonne si accattivò il cuore degli israeliti quindi comincia a fare un lavoro lento meticoloso perché passano quattro anni come si legge nel versetto 7 dopo quattro anni Assalonne disse al re vorrei andare a Ebron a sciogliere un voto che ho fatto al Signore perché durante la solimora in Gesù in Aram il tuo sero ha fatto questo voto se il Signore mi riconduce a Gerusalemme io ci dirò al Signore e il re gli disse va in pace si andò e andò a Ebron ora però attenzione che Assalonne mandò Corrieri per tutte le tipologie a dire quando sentirete il suono del corno allora direte Assalonne è divenuto re a Ebron vuole ripercorrere un pochino la via del padre no perché Davide fu re di Ebron per un certo numero di anni e sette anni e poi ampliò a Gerusalemme dove regno 33 anni Assalonne ripercorrò un pochino le vie del padre prima re di Ebron con Assalonne erano partiti a Gerusalemme 200 uomini che partirono con semplicità senza sapere nulla che succede però che Assalonne sapeva bene quello che stava facendo convocò a Ketofel il gironita consigliere Davide perché venisse dalla sua città di Gilo all'offerta dei sacrifici la congiura divenne potente e il popolo andava aumentando intorno ad Assalonne allora che succede un informatore va ad avvertire il re arrivò un informatore da Davide e disse il cuore degli israeliti con Assalonne meglio il cuore degli israeliti Achare vedete Achare Absalom Achare sarebbe letteralmente sarebbe il cuore di ciascun israelita che è andato dietro ad Assalonne Achare significa proprio andare dietro e Davide a questo punto dice tutti i suoi serbi che erano con lui alzatevi fuggiamo altrimenti nessuno di noi scamperà le mani di Assalonne partite in fretta perché non si affretti lui a raggiungersi e faccia cadere su di noi la rovina e passi la città fuori di spada quindi un figlio la spada non si allontanerà mai dalla tua casa si compie la profezia di Nathan il re dunque uscì a piedi vedremo come erano questi piedi con tutta la famiglia e con tutto il popolo si fermarono all'ultima casa a questo punto passiamo al capitolo sedicesimo dove vedremo che cosa succede durante la fuga di Davide quando il re Davide fu giunto a Bakurim ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa di Saul chiamato Simei figlio di Gera egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i serbi del re mentre tutto il popolo e tutti i propri stavano alla sua destra e alla sua sinistra Simei maledicendo Davide diceva vattene vattene sanguinario malvagio il signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale regni il signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne tuo figlio ed eccoti nella sventura che hai meritato perché sei un sanguinario allora Abisai figlio di Zeruiah disse al re perché questo cano morto dovrà maledire il re mio signore lascia che io vada e gli tagli la testa ma il re disposte che ho io in comune con voi figli di Zeruiah se maledice è perché il signore gli ha detto maledici Davide e chi potrà dire perché fai così ascoltate bene qui c'è proprio il cuore di Davide qui c'è il cuore c'è la fede la visione soprannaturale di Davide qui stiamo nell'Antico Testamento figlioli di Gari magari noi fossimo capaci di vedere le cose come le vede Davide proseguiamo e poi mi fermo per un breve commento poi Davide disse ad Abisea e a tutti i suoi servi ecco il figlio è uscito da mie viscere cerca di togliermi la vita Salone quanto più questo Beniaminita la tribù di Beniamino la tribù di Davide di Sava scusate lasciate che maledica poiché glielo ha ordinato il signore oh glielo ha ordinato il signore forse il signore avrà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi Davide e la sua gente continuarono il cammino e Simeica mirava sul fianco del monte parallelamente a Davide cammin facendo impregava contro di lui gli tirava ai sassi e gli lanciava la polpa ecco qui piccolo commento di questo brano si commenta abbastanza da solo visione sopranaturale di Davide Davide ricorda si ricorda che cosa ha scritto nel Salmo 50 riconosco la mia colpa il mio peccato mi sta sempre dinanzi magari imparassimo tutti quanti da Davide noi non possiamo pensare figlioli miei cari non pensiamolo mai perché se lo pensiamo sbagliamo che possiamo fare tutti i peccati che ci pare perdonatemi poi tanto mi viene da confessare guardate un pochino chi vede il video come si fa con le mani faccio una bella facciamone con le mani e è finito tutto non è finito tutto neanche per niente figlioli miei cari vi dico che se devo essere sincero a me piacerebbe molto che fosse così facile ma non lo è così facile per un motivo molto semplice che non esiste soltanto la misericordia esiste anche la giustizia quindi il signore ha perdonato il tuo peccato gli disse Nathan però per il fatto che tu hai infangato il suo nome le offese ricadano su qualcun altro quel figlio deve morire e tutti i digiorni di Davide non hanno valso la vita del figlio è morto e altre due cose la spada non si allontanerà mai dalla tua anima tutti se una donna di nascosto le tue donne saranno prese coran popolo davanti agli occhi di tutti dice che c'entra qui anche come dire diciamo un ulteriore castigo outsider perché si mei che un membro della famiglia di Paolo andasse a dire non sa che nasporta non faceva parte della profezia di Nathan ma lui è intelligente se lui maledice è perché il signore gli ha detto maledici Davide e chi potrà dire perché fai così allora voi pensate che santo Alfonso Maria degli cuori questo ricordiamolo sempre insegna bene questa cosa supponiamo che una persona ti insulti ti insulti come sta facendo qui questo questo vale soprattutto per quelli che aspirano alla santità ancora di più per quelli che vogliono vivere una divina volontà se ti arriva un insulto il signore non vuole evidentemente che quella persona ti insulti e per quell'insulto che ha fatto pagherà paga pure quella non c'è nessun peccato che noi facciamo questo ricordiamolo sempre che non deve essere pagato padre Pio così ci prepariamo noi dovremmo andare in torrivenaggio questo fine settimana da padre Pio grandissimo santo diceva stato accorto guaglio davanti a Dio tutto si paga tutto si paga perfino un'imperfezione involontaria non purificata impedisce la visione beatifica figli io non mi diverto a dire queste cose lo dico sempre vorrei poterle non dire non è così e siccome oggi sono in molti quello che a quanto pare che spero che mi sbaglio informazioni sbagliate ma che queste cose le ricordano un po' poche io lo devo fare questo per il vostro bene e anche per il mio questo ma anche per me evidentemente fare anche che me le ricordo a me stesso queste cose quindi sant'alfonso dice ma attenzione al tempo stesso Dio non vuole quell'insulto ma vuole che tu te lo tieni quell'insulto e ti santifichi e lo offri e non lo vedi in modo semplicemente umile dice a questo mi insulta poi gli spacco la faccia perdonatemi il termine un po' periale no no tu stai umile buono zitto riconosci in quella umiliazione la mano del Signore che ti sta umiliando e ne fai tesoro perché se te la becchi con umiltà e con pazienza quella cosa tanto di purgatorio e meno detto fuori le righe in termini molto prosaici perché vuol dire che parte dell'espiazione te la stai prendendo adesso io vorrei tanto sapere quanti figli di Dio quando capita qualche disgrazia quando capita qualche malattia quando capita qualcuno che ti tratta male quindi a prescindere dalle valutazioni e considerazioni umane in uno step come dire successivo possono pure starci ma guai se perdiamo la visione soprannaturale delle cose è la fine Davide ha questa visione ed è per questo che è santo pur avendo commesso delle cadute non indifferenti considerevoli questo episodio è assolutamente distruttivo va bene a Salonne fa tutto quello che deve fare quindi cerca di andare all'assalto armato del regno saltiamo un pochino l'ho detto figlioli è impossibile leggere anche se sarebbe molto bello riga per riga e andiamo direttamente all'episodio in cui a Salonne muore siamo al capitolo diciottesimo a Salonne si imbatte nei servi di Davide a Salonne cavalcava il mulo il mulo entrò sotto il roviglio di una grande guercia e la testa di a Salonne rimase impigliata nella guercia e così gli restò sospeso con la cera e terra mentre il mulo che ha sotto di lui passò volte immaginiamo la scena un uomo lo vide e venne a riferire a Yoab ho visto Salonne a pescino a quercia Yoab rispose all'uomo che gli portava la notizia dunque l'hai visto e perché non l'hai stato solo tu sul posto io ti avrei dato dieci cicli d'argento e una cintura ma quell'uomo di Sayoab quando è che mi fossero messi in mano mille cicli di arti io non stenderei mai la mano sul figlio del re perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te ad Abisai e ad Ittai proteggetemi il giovane a Salonne questo aveva detto Davide dobbiamo contrastare il movimento formato però facciamo del male ad Assalonne si trova evidentemente nei versetti precedenti no? allora Ioab disse io non voglio perdere così il mio tempo con te presi in mano tre dardi e li conficcò nel cuore di Assalonne che era ancora vivo nel folto della guerra poi dieci giovani scuditi di Ioab circondarono Assalonne lo colpirono a morte e lo finirono e questa è la morte di Assalonne adesso però bisogna andare a vedere la reazione di Davide che aveva raccomandato di preservare il figlio andiamo un pochino avanti Davide stava saluto fra le due porte la sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura alzò gli occhi ed ecco vide un uomo correre tutto solo la sentinella gridò e l'annunzio al re il re disse se è solo ha in bocca una bella notizia quindi andava avvicinandosi sempre più la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano ecco un altro uomo correre tutto solo e il re anche questo uomo ha una bella notizia la sentinella disse il modo di correre del primo mi pare quello di Achimahas figlio di Sadok il re disse è un uomo buono viene certo per una notizia Achimahas gridò al re pace poi si prostrò regola faccia a terra e disse benedetto il tuo dio che ha affermato gli uomini che avevano alzato le mani contro il mio signore Davide risponde il giovane a salone sta bene Achimahas rispose quando io andava il servo del re e me tuo servo io vedi un gran tumulto ma non so che cosa fosse il re gli disse metti di là da parte ed ecco arrivare l'etiope che disse si rallivi per la notizia il re mio signore il signore ti ha liberato da quanti erano insorti contro di te il re disse all'etiope il giovane a salone sta bene e l'etiope rispose diventino come i giovani nemici del re mio signore e quanti insordono contro di te per fatti del male allora il re fu scosso da un tremito salì al piano di sopra della porta e pianse diceva andandosene figlio mio a salone figlio mio figlio mio a salone fossi morto io invece di te a salone figlio mio figlio mio fu riferito a Yoab ecco il re piange e fa lutto per la salone la vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per il popolo perché il popolo sentì dire in quel giorno il re desolato a causa del figlio e il popolo in quel giorno rientrò in casa in città furtivamente come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggito durante la battaglia il re si era coperto dalla faccia e gridata da gran bussia figlio mio a salone a salone figlio mio figlio mio certamente questa reazione come dire essendo comunque a salone il figlio di Davide quindi per chi è papà e mamma magari forse questa reazione la potrebbe capire un pochino di più però ritorna di nuovo il tema già visto con Saul che della magnanimità della generosità di Davide contro i suoi nemici Davide sotto questo punto di sovra sapete che Davide è certamente una delle figure di Cristo nell'Antico Testamento anche perché l'unto il Signore venne acclamato come figlio di Davide il Signore quando entrò a Gerusalemme si mise a cavalcare un'asina come la mula di Davide quindi proprio per far vedere che lui era il Messia promesso quindi sapete che c'era anche l'equivoco ai tempi di Gesù che il Messia fosse appunto un nuovo Davide quindi un conquistatore che come il grande Davide che avrebbe liberato gli ebrei dalla ossessione della stiabitù di Roma per questo nel Vangelo di Marco c'è il cosiddetto segreto messianico che sembra che Gesù non vuole mai far sapere a nessuno che è il Messia tema che chiaramente è funzionale al fatto che non voleva assolutamente che il messianismo fosse più evocato e a quanto pare questo si trova anche negli scritti di Maria Valtorta fu la causa del tradimento di Giuda cioè Giuda ha sognato per anni e per anni che Gesù fosse quel Messia liberatore dei popoli quindi dominatore conquistatore politico e poi mano mano questa cosa si andava smontando giorno dopo giorno alla fine si smontava del tutto e l'idea anche di andarlo a catturare lo faccio catturare così vediamo se qua gli mettono le mani addosso non parte alla carica e dice rivolta e facciamo qualcosa quindi Davide è figura del Messia certamente non è figura del Messia per i peccati che ha fatto ma per esempio per il fatto che è stata una è stato certamente un prodromo di ciò che Gesù avrebbe insegnato a noi il tuo nemico a chi ti percora sulla guancia destra borgi anche l'altra certo questo è Assaloni era il figlio ma comunque era il mio e lui avrebbe voluto che fosse risparmiata la vita andiamo avanti l'ultimo periodo di Davide ecco l'altra pazzia vedete quando uno attenzione sempre al proverbio dei dei padri antichi che l'ozio è il padre dei vizi allora attenzione qui eh attenzione al prodromo perché questo è molto importante anche se chiaramente le espressioni devono essere decodificate ci sono stati dei capitoli in cui gli israeliti hanno ricominciato a fare cose che non funzionano tema che ricorderemo dei giudici no israeli ricominciò a fare ciò che è male agli occhi del signore allora il signore li mise nelle mani degli ettiti allora gli israeliti cominciarono a gridare liberaci da questo e Dio suscita il giudice che lo limitano sempre l'uomo e questa storia è antica per riprendere un pochino di senno deve trovarsi con l'acqua alla gola allora l'ira del signore vedete in ebraico af adonai af significa naso no letteralmente no avete visto che i tori hanno che c'è il fumo che gli esce dal naso no ecco le espressioni chiaramente antropomorfica però l'espressione è antropomorfica ma l'ira del signore di essire di essilla si accese di nuovo contro l'israele va iosef sapete che va iosef iosef si si è come dire lo dice il termine stesso iosef giuseppe significa aggiungere la carotte quindi si accende aggiungendosi quindi un'altra volta contro l'israele e come si manifesta incitò davide contro il popolo in questo modo su fa il censimento di israele e di giuda attenzione fare il censimento di israele e di giuda caffera guai quindi davide aderisce a questa idea e quindi umilia la popolazione castigo per la popolazione e sentite adesso che succede però quella cosa è un peccato e davide sarà punito per questa e così capiremo anche in che senso teniamo sempre presente che nella saga scrittura Dio il fatto che Dio sia causa prima di tutte le cose nell'antico testamento però fa in modo anche per la particolare proprio conformazione grammaticale sintattica della lingua che Dio che Dio che Dio sia la causa prima di tutte le cose senza il concorso delle cause seconde per cui il testo biblico non distingue mai tra volontà intenzionale e volontà permissiva di Dio questa è chiaramente una volontà permissiva quindi che quindi Dio permette che a Davide gli venga questa idea malzana per punire gli israeliti ma di questa idea malzana sarà punito lo stesso Davide lo vedremo però vedete quello che ci abbiamo detto prima Davide fa un peccato ma il peccato è da Dio permesso perché voleva castigare il suo occhio guardate figlioli miei cari cerchiamo di vedere alla luce di questo tante cose che sono successe Davide è l'autorità politica a quei tempi peraltro un'autorità politico sacrale decodificazione subito prima ancora di leggere il testo del brano cioè quando arrivano delle pazzie da parte di qualche autorità politica o anche sacra ci abbiamo mai pensato evidentemente Dio non vuole queste cose vedremo la linea che fa Davide per quello che ha fatto però ci abbiamo mai pensato che questo è un bel flaggello che il Signore manda su di noi perché ce lo siamo meditato questo è un altro insegnamento di Davide stesso perché quando capita una disgrazia Davide non comincia a impregare e a maledire questo me la sono meditata me la tengo speriamo che il Signore guardi la mia umiliazione ma noi ci pensiamo questo non vuol dire questo non vuol dire che se c'è una ingiustizia da parte dell'autorità uno si deve adeguare no ma che ci sia quell'autorità che è non bella ci hai mai mai pensato che potrebbe essere un castigo divino allora quando Davide va a dire a Yoab di fare il censimento ci percorre tutte le tribù di Israele fino a Bersabea fate il censimento del popolo perché io conosco il numero della popolazione perché fu fatto il censimento da Cesare Augusto quando nacque Gesù per contare agli ebrei quello era un atto umiliante io voglio vedere quanti sono i miei sudditi e infatti Yoab risponde al re il Signore tu Dio aumenta il popolo cento volte più di quello che è gli occhi del re mio Signore e gli occhi del re mio Signore possono vederlo ma perché il re mio Signore vuole questa cosa cerca di disfaderlo dice guarda non umiliare in questo modo gli israeliti ma l'ordine del re prevalse su Yoab e Yoab e i comandanti dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento di Israele fanno tutte le cose fanno tutto quello che devono fare Yoab consegnò al re il totale del censimento del popolo c'erano in Israele 80 mila uomini abili in grado di maneggiare la spada in giù da 500 mila ma dopo che ebbe contato il popolo bellissimo il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al Signore attenzione per sentire il rimorso sapete com'è in ebraico il cuore di Davide tra l'altro letteralmente cominciò a battere forte ad agitarsi dopo che ebbe contato il popolo capiamo una cosa molto importante come faccio a capire che sono uscito dalla volontà di Dio e che sto fatto un guaio a volte guardate che il cuore aumenta proprio i battiti quando facciamo qualche cosa che non funziona o comunque il cuore si turba comincia a a perdere la pace importante molte volte proprio su Davide vi ricordate anche quando prende l'asta e va vicino a Saulo e gli taglia un pezzo della veste si sente battere il cuore dice che hai fatto gli hai tagliato un pezzo non è ammazzato comunque gli hai tagliato un pezzo della veste allora e Dio disse al Signore vedete che nella traduzione del del 74 vedete che queste traduzioni guardate sono sempre un disastro è tradotto meglio dopo che hai fatto il censimento di Davide si sentì battere il cuore qui nella nuova traduzione il cuore di Davide gli fa sentire il rimorso è da un'interpretazione non c'è scritto in ebraio gli fa sentire il rimorso c'è scritto si sentì battere il cuore e l'importante è perché il rimorso viene da sentirsi battere il cuore questo è importante anche per noi perché possiamo essere edificati e quindi capire quando è che dobbiamo preoccuparci vabbè e che cosa dice ho peccato molto per quanto ho fatto ti prego Signore togli la colpa del tuo servo perché io ho commesso una grande stoltezza Joab gli ha detto ma non era stata a sentire anche qui traiamo sempre insegnamenti no? non disprezziamo mai buoni consigli perché se noi ci intestardiamo questo Signore ci lascia perdere a volte ce lo manda il Joab della situazione a dire mio Signore te la cresca tante volte ma non fai questa cosa o fa lo stesso chiede perdono ah però che cosa succede? secondo voi lo perdonerà il Signore? certo che lo perdona però ci stanno le conseguenze al mattino quando Davide si alzò fu rivolto questa parola del Signore al profeta Gad che ha preso nel frattempo il posto di Nathan veggente di Davide va a riferire a Davide così dice il Signore io ti propongo tre cose scegline una e quella ti farò gli darà la possibilità di scegliere la pena dice la penitenza questo è anche un buon criterio per i confessori io qualche volta l'ho fatto mi dico guarda ti do queste tre possibilità scegli questa qua perché così vediamo anche come il penitente coopera perché è molto importante vedere anche a volte uno ti lascia la possibilità con una propria leggera più pesante e uno intermedia cioè da quello che scegli capisci subito il cuore no? vabbè questo non però significativo anche questo Gad venne dunque a Davide di riferire questo e disse vuoi che vengano sette anni di carestia nella tua terra o tre mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue o tre giorni di peste peste nella tua terra ora rifletti bene e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato Davide rispose a gamba sono in grande angustia ebbene cadiamo nelle mani del Signore perché la sua misericordia è grande ma che io non cada nelle mani degli uomini attenzione qui perché la sua misericordia è grande il termine è Rahamav i famosi Rahamim no? che si traduce con compassione con misericordia ma Rahamim come quasi tutti quanti sanno sono le viscere le viscere dove il mio intimo freme di compassione le viscere è il posto dove se sono le viscere femminili è il posto dove dove nasce la vita ma che io non cada nelle mani degli uomini e così il Signore mandò la peste in Israele da quella mattina fino al tempo fissato tre giorni di peste quanti ce n'erano? abbiamo visto prima 80.000 da Danna a Bersabea morirono tra il popolo 70.000 persone e quando l'angelo e bestese la mano su Gerusalemme per devastarla il Signore anche questa espressione antipomorfica si pentì di quel male disse all'angelo devastatore del popolo ora basta ritira la mano il pentirsi del Signore l'abbiamo visto tante volte queste sono tutte quante espressioni come dire antropomorfiche come quando nel libro della Genesi si legge che Dio si pente e dice mi pento da che è creato l'uomo sapete sapete che Dio rimane sempre un grandissimo mistero per noi dobbiamo sempre camminare con estrema cospezione quando parliamo di Lui è chiaro però che questi termini pur non potendo essere la lettera perché Dio non è che adesso penso una cosa adesso ne penso un'altra però ci dicono qualche cosa di vero ecco qualche cosa di vero è che sì c'è una conseguenza per le nostre azioni ma quella conseguenza non è mai eccessiva cioè Dio è indulgente Dio è clemente quindi le conseguenze sì ma non troppo perché non vuole cioè non tutte le conseguenze quindi quello che il carico è inferiore a quello che ci saremmo meritato questo non dimentichiamocelo mai ecco Dio vedendo l'angelo che colpiva il popolo disse al Signore io ho peccato io agito male ma questi povere pecore che hanno fatto la domanda venga contro di me e contro la casa di mio padre eh figlioli miei cari ci sono delle sofferenze per esempio chi di noi ha mai pianto sui dolori di Gesù della Madonna loro innocenti hanno sofferto per causa nostra e noi dobbiamo sentirci in colpa noi dobbiamo sentirci in colpa dice ma Gesù non ha fatto niente di male ma Gesù è Dio dell'amore stesso e la Madonna ma vogliamo pensare per esempio alla Madonna sotto la croce la Madonna avrebbe preferito miliardi di volte soffrire lei piuttosto che vedere il figlio ridotto in questo modo questo per dire ci sono delle sofferenze che a volte fa molto più male vedere la sofferenza fuori di noi che soffrirla noi ma anche questa deve essere nell'ottica di un figlio di Dio essere letto anzitutto in chiave espiatoria dopo il censimento e il castigo abbiamo la fine del regno di Davide Davide di fatto va verso il tramonto della vita e il primo libro dei re si apre la successione di Davide Davide legge Salomone come suo successore e qui c'è tutta quanta la storia di come viene nominato Salomone qui c'erano tutte quante le lotte per la successione Bezabea dà a Davide il consiglio di far uscire suo figlio quindi Salomone deve dare un annuncio e Davide lo sto cercando di andare un pochino più avanti chiamatemi Bezabea dopo di me se dirà chiamatemi Sadoc ecco qua fate montare Salomone mio figlio sulla mia mura e fatelo scendere a Gricon perché tutti quanti capiscano che lui è il mio successore viene fatto così e si capisce quindi che Davide e non che Salomone scusate non i concorrenti tutti quanti coloro che stavano lottando per il potere per quegli altri figli di Davide è il legittimo successore di di Davide quindi il sacerdote prende il corno lo unge e tutto il popolo grida di Vare e Salomone eccetera ecco dopodiché c'è la morte di Davide nel capitolo 2 prima di morire Davide dà un pochino il testamento spirituale a Salomone molto bello suo figlio io me ne vado per l'azienda di ogni uomo sulla terra tu si forte mostra di uomo c'è la buona memoria ricorderà stesse parole che furono dette a Giosuè da Mosè prima che gli passasse il testimone osserva la legge del Signore tuo Dio procedendo nelle sue vie eseguendo le sue leggi i suoi comandi le sue norme le sue istituzioni come sta scritta nella legge di Mosè perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti rivolgerai perché il Signore compie la promessa che mi ha fatto dicendo se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima e non ti sarà tutto un discendente l'altro modo di Israele anche tu sei quel che ha fatto a me ioab figlio di Zeruià cioè come gli ha trattato i tuoi capi dell'esercito di Israele i figli Abner figlio di Nero e Amasà figlio di Neter come li ha uccisi spargendo il tempo di pace il sangue di guerra e mettendo sangue di guerra sulle sue cinture e intorno ai suoi fianchi e alzosando la gara i suoi piedi agirei con la tua saggezza non permetterai che la sua vecchiaia scenda in pace agli inferi eccetera eccetera dopodiché Davide si addormentò con i suoi padri e fu se vuoi nella città di Davide la durata del regno di Davide fu su Israele fu di 40 anni 7 Ebron e 33 Giacosarelli Salomone sedette sul trono di Davide e il suo regno si consolidò molto ecco la prossima volta cominceremo a trattare se Dio vuole del regno appunto di Salomone bene piccole considerazioni conclusive ecco sul ciclo di Davide sono queste le abbiamo ampiamente dette le ribadiamo a conclusione Davide è stato un grande in questo testamento c'è il cuore e lo spirito di Davide un grande immorato del Signore un grande osservante della sua legge che ha avuto uno con cui il Signore è stato da sempre benedetto da lui con tutte le benedizioni tipiche dell'Antico Testamento i grandi successi militari il fatto che ha sconfitto Volina il fatto che è sceso al potere pur non volendolo perché il Signore ha voluto in tutti i modi possibili lui ha fatto il possibile perché Salomone rimanesse al suo posto fino a quando era possibile ma il Signore voleva far ascendere lui ha avuto le sue grandi cadute pensiamo anche tutti quanti i salmi che ha scritto Davide tantissimi la stragrande maggioranza dei salmi sono sua composizione quindi questo fa capire il cuore che aveva che non lo ha esentato dalle colpe ma è stato grande anche in questo perché guardate figlioli mei cari l'unico modo per essere grandi quando si commette una colpa è eccellere nella penitenza la prima cosa la colpa va riconosciuta va chiamata per nome e per noi che siamo antico nel nuovo testamento va confessata chiamandola per nome e per cognome e con sincero pentimento dopodiché con tutta l'umiltà possibile ed immaginabile si fa la penitenza che ci impone il confessore e se quella non basta si fa la penitenza che ci impone il signore per quello che abbiamo fatto imparando ad acquisire come Davide quella visione soprannaturale degli eventi che ci consente di vedere appunto attraverso i fatti dolorosi la mano del signore che viene in nostro aiuto per purificarci delle nostre colpe commesse per farci saldare i debiti con la sua giustizia ricordiamo sempre questo è un atto di misericordia da parte del signore perché come detto tante volte detti in altri contesti se non abbiamo purificato le nostre colpe ce le andiamo al purgatorio li soffriamo di più e senza nessun merito se invece le conseguenze delle nostre colpe ce le assumiamo volontariamente qui perché volontariamente pensiamo all'episodio di Simei bastava che Davide dicesse ai figli di Zeruiah bene spaccategli la testa questo qui che non ha stufato non avrebbe potuto tranquillamente fare c'erano tutti quanti pronti sui uomini a farlo non l'ha voluto fare pensiamo a quante volte Davide si è trovato nella possibilità di farsi giustizia per esempio con Saul e non l'ha voluto fare di sfuggire ai divini castighi ma non l'ha voluto fare questa è la grandezza di questo straordinario re dell'antico testamento il primo dei re vedremo che Salomone ha anche avuto un grande regno ma purtroppo va a finire molto molto male e già dalla morte di Salomone il neonato regno di Israele come profetizzato ai tempi di Samue quando Israele si è messo in testa da avere un re Saul lo abbiamo visto pessimo re Davide è stato un buon re ma non esente da pecche Salomone regnerà per gran parte della sua vita con una marea di savienza e facendo prosperare il popolo di Israele fu il costruttore lo vedremo la prossima volta il primo tempio di Gerusalemme il tempio di Salomone purtroppo però i termini della sua vita andò in degenerazione e già alla sua morte il regno sarà diviso in due e con questa divisione comincerà io non mi dico il successore di Salomone chiesto lo vedremo la prossima volta ma è un disastro comprendiamo attraverso queste piccole carrellate io mi vergogno un po' a trattare i personaggi biblici di questa caratura in questo modo così veloce però il fine è semplicemente dare un input e anche comprendere come il confronto con i grandi episodi con i grandi passaggi della scrittura si è fatti in un certo modo credo che sia profondamente edificante salutare anche per per la vita delle nostre anime per la nostra salvezza questo è sempre il fine che deve guidarci anche evidentemente nell'approccio con la sagra scrittura come disse San Paolo a Timotio tutto nella sagra scrittura serve per l'edificazione per formare il bravo soldato il bravo fedele il nostro signor Gesù Cristo speriamo che queste povere considerazioni possano concorrere a questo ci aggiorniamo alla prossima puntata quando comiteremo a vedere il ciclo di Re Sarumo una santa notte a tutti coloro che hanno seguito la diretta e che Dio vi benedica che la Santa Vergine sempre vi protegga